Rigiocare la 1.0 fa sempre il suo effetto, provoca sempre quell'effetto di nostalgia, poi c'è l'acqua divisa da due colori che cambia il bioma, un giorno molto particolare perché oggi è il 31 dicembre, l'ultimo dell'anno, volevo un attimo ripercorrere tutte le versioni di Minecraft fino adesso, in realtà voglio semplicemente costruire qualcosa su Minecraft 1.0, poi andare a costruire quella stessa roba, l'ultima versione di Minecraft possibile, che sia uno snapshot o meno. Detto questo dato che starete vedendo probabilmente questo video, nell'anno nuovo, nel 2023, credo che sia arrivato il momento di chiedervi come sta andando questo nuovo anno, propositi, scriveteli qui sotto con un commento. Quanto mi riguarda qualche anno fa avevo come proposito quello di iniziare a modellare in 3D, perché da piccolini c'è sempre una categoria di ragazzini che vuole imparare a creare videogiochi, ovviamente nella creazione di videogiochi ci sono tante altre cose in mezzo, come per esempio la programmazione o la modellazione 3D. Sono diventato un modellatore 3D, tuttavia non ho programmato tantissimo, anzi ho programmato veramente poco, più che altro perché nella modellazione 3D tu vedi effettivamente il tuo risultato finale, è un po' come disegnare, poco a poco prende forma ed è una gran soddisfazione. C'è la programmazione, è una di quelle robe importantissime, chiamo che non viene mai apprezzata, ecco, provatemi una persona che stava giocando un gioco e ha detto guardate come è programmato bene, nessuno direbbe una frase del genere, per esempio la grafica viene apprezzata o comunque ambientazione, quindi per questo probabilmente non lo farò, però ci voglio provare. Questo non so bene cosa debba andare a costruire in questo video perché sì, voglio fare una specie di sfida, due mondi di Minecraft appena generati in survival, in quale riesco a costruire meglio, sicuramente nell'ultima versione che è tipo la 1.19.3, magari posso anche spawnare in un luogo in cui ci sono dei blocchi più carini, potrei anche utilizzare la deep slate delle nuove caverne. Voglio costruire un qualcosa di gigantesco perché questo video deve concludersi prima dello scattare della mezzanotte, però ci tenevo a registrare questo video, come sta andando l'anno nuovo, come sono andate le vostre vacanze natalizie, se vi siete divertiti avete i commenti a vostra disposizione. Tutto questo dobbiamo costruire un qualcosa di decente, la prima cosa che andrei a fare è costruire un'altra crafting table e andare a realizzare degli oggetti in pietra. Prego a castare gli oggetti nuovi in pietra, non posso muovere gli oggetti, siamo ad abbattere qualche albero, credo che costruirò qualcosa utilizzando la legna e non lo so degli stone bricks. Guardate il lato positivo, in questa versione non c'erano i punti lag, quindi è già qualcosa. Dunque che nella 1.0 gli oggetti avessero delle durabilità diverse perché ho tipo rotto tre alberi, infatti ho 25 di legno e l'accetta è praticamente distrutta. Inoltre mi dà molto fastidio che per correre devi cliccare due volte velocemente W. Devo raccogliere un po' di sabbia per craftare del vetro. Mi sono anche accorto di una cosa, praticamente quando spacchi i blocchi il drop è tipo 2D, è strano. Ricordo adesso come si è nella versione ufficiale, però fa capire che non sono così nella versione finale, invece i blocchi sono bene o male normali. Certo che ne ha fatta di strada questo gioco, fa per scavare si faceva in questo modo, altro che trovare la Lash Cave o comunque le nuove caverne. Da dire che ci siamo già abituati alle nuove caverne, praticamente un creeper è esploso, si è visto tipo il modello 3D dell'altro creeper accanto. Che mi sta uccidendo? Ah, faceva tipo troppi danni. Ci sono alcune differenze che ho notato, come per esempio anche con una torcia, cliccando shift non la piazza ma apre la crafting table. A differenza delle ultime versioni se tipo stai craftando qualcosa, chiudi, chiudi la crafting table e viene droppato tutto. Cioè nelle ultime versioni sono state che questa cosa è stata fixata, lo ritrovi nell'inventario. Qualcuno mi spiega perché l'enderman mi sta attaccando se ero tipo in miniera? Prima che l'enderman mi interrompesse ho piazzato delle fornace e ho iniziato a cuocere un po' di pietra perché voglio andare a craftare degli stone bricks e appunto la costruzione che dobbiamo fare. Sia il materiale più adatto a questa versione. Non voglio costruire qualcosa di gigantesco quindi va bene. Potremmo anche costruirla qui come casa, ci potrebbe anche stare. Era proprio sfoglio Minecraft all'inizio. Anche se devo dire che giocare a questa versione dà una nostalgia incredibile. Non giocassi ancora a Minecraft quando era uscita quindi boh. Altra roba fastidiosa in confronto alla versione di RNA di Minecraft è da piazzare un blocco sopra la grassa. Quindi dovete rompere ogni singolo blocco. Perché se clicco shiftando qui si apre l'altra porta? Quando me stavano cercando di programmare un qualcosa che se clicchi shift apriva entrambe le porte ma è tipo buggato. Mi sa che non esistevano le scale al contrario in questa versione. Creiamo un altro design. Anche se la pala in tre blocchi si è già distrutta. Pralasciando tutto il resto che sto continuando a costruire. Ho craftato delle slab di sandstone perché volevo realizzare un pavimento a scacchi. Il problema è che le slab un po' come le scale non possono essere piazzate sulla parte superiore del blocco. Quindi ho sprecato sabbia essenzialmente. Bene. Mi sa che vuole contribuire alla costruzione della casa. Ero quasi dimenticato di questa roba. Le versioni prima della 1.9 si poteva parare con la spada. Ammetto che è un bel ricordo ed è una roba che un po' mi manca. Sarebbe carina un'aggiunta del genere. Anche se renderebbe completamente inutile lo scudo. A me come aggiunta piacerebbe. Devo craftare un nuovo piccone perché il precedente è passato a miglior vita. Ho craftato tipo già quattro picconi in pietra. Sembra che stia costruendo non lo so la torre Eiffel. Fare tre blocchi vuol dire finire il piccone in pietra. Questo alla sandstone non la possiamo utilizzare. Quindi non lo so la utilizzeremo per qualche dettaglio come per esempio qui. Boh sembra star prendendo una forma decente per essere su Minecraft 1.0. Credo di essere in una delle fasi finali della costruzione. Non ho troppi blocchi con cui costruire quindi si crea un effetto che non mi piace molto. Per il resto non lo so possiamo fare una roba del genere. Però sappiate che ci sono veramente pochi blocchi in questa versione utilizzabili. Creativa sono pochi. Immaginate in sopravvivenza. Cosate ma quante sono le possibilità che spawni uno spider jockey nella 1.0? Non ti rendo così crepo. Comunque questo qui è il risultato finale. Non è ancora il risultato finale ma sto costruendo. Quindi credo di trovarmi praticamente agli sgoccioli della costruzione. È veramente un casino costruire in questa versione anche perché è un processo molto lento. Stavia credo di essere arrivato ad una conclusione. Vorrei aggiungere qualche dettaglio tipo qui. Per il resto possiamo anche utilizzare della gravel. Realizzare il percorso dato che non possiamo realizzarlo con la pala in questa versione. Stessa cosa dall'altro lato. Ok detto questo, questo qui è il risultato finale. Che non sembra un granché o comunque non sembra una mega costruzione. Sappiate che per realizzare questa casa in Minecraft 1.0 ho cercato di dargli anche una forma comunque tridimensionale. Non mi piace per nulla il tetto anche perché tipo lì ho sbagliato. Termivo un blocco lì ma lasciamo stare. Mi sapete che cosa ne pensate di questa casa e adesso andiamo su Minecraft 1.20 e cerchiamo di costruire qualcosa più decente. Ho appena generato un nuovo mondo e mi trovo su Minecraft 1.19.3. Da dei comandi sembra tutto più fluido. Che fortuna è il biomo della nostra vanilla. Dobbiamo costruire qualcosa in questa versione. Hanno aggiunto delle nuove musiche in Minecraft. Per chi in questo momento le sento, sono praticamente nuove. Ci stanno però non sono affatto male. Sono alberi sì di giungla ma sono particolarmente bassi. Ci sta tantissimo, vorrei costruire una casa tipo lì sopra. Chiamo di sbrigarci a costruire qualcosa qui. Ovviamente non utilizzerò texture pack per andare a influenzare il risultato finale. A questo punto inizio a craftare le prime robe come per esempio un piccone. Abbiamo anche delle caverne che potremmo sfruttare per andare a costruire un... Qui potremmo creare una specie di bunker. Mi è venuta un'idea. Volevo costruire la solita casetta però vedo che ci sono queste grotte, queste rientranze nel terreno. Voglio costruire un qualcosa di particolare. Inizio fin da subito a mostrarvi la mia idea. Voglio costruire una specie di bunker qui. Quindi andiamo a piazzare la crafting table qui. Piazziamo delle slab per risparmiare materiali. Cosa che non ho potuto fare nella 1.0. Anche nel modo in cui mi muovo riesco a muovermi molto più velocemente in questa versione a costruire. Sì qui secondo me sono già dei buoni design. Andiamo a piazzare una fornace. Vorrei utilizzare dei log di giungla. Io credo si noti che ho già le idee molto più chiare dalla 1.0 in cui potevo costruire semplicemente con tipo tre blocchi. O qui da qualche parte esatto. Fare in modo che questa struttura tipo si regga da sola. Andrei a piazzarne magari un altro in quest'altra parte. Comunque ci sono tantissime differenze che anche se non sono visibili. Il giocatore che ha giocato per tanto tempo alle ultime versioni se ne rende conto. Sembra che gli oggetti siano stati rivisitati. Per esempio l'accetta. One shot agli animali non funzionavano. One shot aveva praticamente nulla. Mi sembrava quasi che l'accetta pochissimi danni. Come se non fosse stata pensata come arma alternativa della spada. O effettivamente ci sta e rendeva molto più utile la spada. Però avevo il microfono mutato e non avrebbe senso. Metterò qualche immagine di timelapse comunque. Purtroppo gran parte dell'area è perdere perché avevo il microfono mutato. Comunque quel che ho costruito e questo qui era bene o male la mia idea iniziale. Di andare a costruire una specie di casa su più livelli. Struita con questo materiale in legno pieno di dettagli. Vedete vari dislivelli. Ci sono bottoni. Ci sono trapdoor. Qui sotto mi sono messo a costruire quel che avete notato prima. Mi sono scordato di metterci qualcosa. Ho creato questa specie di muro completamente pieno di dettagli. Che siano bottoni. Che siano scale. Che siano blocchi. Praticamente nulla di complicato. Ci ho messo molto meno tempo della costruzione che sono andato a realizzare in Minecraft 1.0. Secondo me questo posto è nettamente superiore a livello di design. Anche perché non è sempre la solita casa quadrata che si costruisce lì. È appunto un qualcosa di diverso. Non sbaglio. Tipo in questa trapdoor. Esatto. Ho fatto in modo che ci sia una discesa. In realtà la discesa era da questa trapdoor. Ma lasciamo stare. Secondo magazzino. Comunque zona storage. Che va anche a finire in una caverna. Ecclicemente era qui quando ho scavato. Caverna che sono andato a vincolare con queste specie di barriere ai lati. Nella quale sono andato a piazzare semplicemente delle chest. Probabilmente avessi avuto più tempo mi sarei messo a farmare delle foglie e delle liane per addobbare un attimo questo posto. Ho craftato anche una nuova accetta e una nuova pala. Ne ho craftate delle altre dato che le precedenti si sono rotte. Ebbe stato utile anche aggiungere dei dettagli non lo so con blocchi di smeraldo o comunque blocchi di nederite ci sarebbero stati anche bene. Sono tanti i blocchi che sarebbero stati bene in questa costruzione. Un esempio semplice potrebbero essere gli stone bricks che non ho inserito per evitare una ridondanza con la scorsa costruzione. Tuttavia ci sarebbero stati molto bene. Ho costruito questa specie di scala. Non lo so secondo me questa seconda abitazione non mi abbia richiesto molto meno tempo. Ho un qualcosa di particolare. Ha soprattutto molti dettagli che nella 1.0 non ho potuto realizzare dato che le scale non le potevi piazzare. Le trapdure erano strane, le slab erano strane. C'erano un po' di problemi ecco. Ultima cosa che vorrei craftare in questo mondo. Qui da qualche parte magari qui. Piazza due slab. Per fare una roba del genere. Andrà a piazzare un letto qui. Prima di concludere il video. Come ci sta? Non è una costruzione che vede molto. Anche perché l'ho costruita in un dislivello. Questa costruzione si è portata ad un livello superiore. Anche i bambù avrei dovuto inserire. Vabbè ho capito. Mi sa che è un segno che è arrivato il momento di concludere questo video qui. Semi sapere che cosa ne pensate delle due costruzioni. Se volete lasciate un commento. E detto questo fine. Questa è un successo.